Ciao amici di Calciunomoli24, ora sentiremo il parere dei bambini. Allora, ciao, come ti chiami? Felice. Felice, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne va? Penso che ha sbagliato. E che ti prenderesti al posto di Guain? Oh, penso più Icardi. E invece un altro giocatore? Non so, penso... No, no, Bacca. Ciao, come ti chiami? Diego. Diego, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? Non mi piace per niente. E chi ti prenderesti? Bacca. E invece al posto un altro giocatore? Puoi Icardi. Ciao, come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo. Cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? E che è un traditore. E secondo te Guain... E chi ti prenderesti al posto di Guain? Aguero. E secondo te al posto di Aguero? Icardi. Ok. Ciao, come ti chiami? Andrea. Andrea, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? Ha sbagliato. Cosa? Chi ti prenderesti? Icardi. Oppure? Bacca. Ciao, come ti chiami? Alfredo. Alfredo, chi ti prenderesti? A Bacca e Icardi. E secondo te Tonelli e Giaccarini sono a livello della squadra? Sì. Tu, Gioia Farta. Allora, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? Penso contradditore. E chi ti prenderesti al posto di Guain? Icardi. Oppure? Giaccarini. E secondo te Tonelli e Giaccarini sono a livello della squadra? Sì. Ciao. Mario. Mario, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? Che è un traditore. E? Che non doveva andare alla Juve. Ehm. Chi ti prenderesti al posto di Guain? O Icardi o Guero. Secondo te Giaccarini e Tonelli sono a livello della squadra? Sì. Ciao, come ti chiami? E meglio. Cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare? No, non so. Secondo te Giaccarini e Tonelli sono a livello della squadra? E' un quadro, no. Ciao. Ugo, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vada a Napoli? Un traditore. E' un traditore. E chi ti prenderesti al posto di Guain? Aboumeyang e Benzema. E secondo te Giaccarini e Tonelli sono a livello della squadra? Sì. Ciao, come ti chiami? Cristian. Cristian, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vada a Napoli? Che è un pessimo fallito. E chi ti prenderesti al posto di Guain? Bacca. Oppure? Forse Cristiano Ronaldo. E secondo te Giaccarini e Tonelli sono a livello della squadra? No. Ciao, come ti chiami? Francesco. Francesco, cosa ne pensi con questo fatto che Guain se ne vuole andare a Napoli? Che è un traditore, ma va bene tutte le squadre, ma la Juventus no. In touch. Ciao. Ciao. Ciao.